Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione. Firenze-Pisa-Livorno in A1 verso Bologna a tratto chiuso per lavori tra aglio e roncobilaccio fino al 28 febbraio. Stanotte in orario 21.6 per il rifristino dei danni dovuti ad un incidente sarà chiuso lo svincolo di Calenzano in entrata verso Bologna. Si ricorda che a Firenze è stato sospeso l'obbligo di spostare le autovetture in occasione della pulizia delle strade. No multe e rimozioni fino al 31 marzo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!